Severino! Ma come hai fatto a riconoscermi? Eh, dà la voce! Uè, se senti aria, tira su il finestrino! No, no, non preoccuparti, va bene così, lo lascio giù, così va fuori l'aria che viene dal di dentro. E quindi te li ha ridati o no, sti soldi? No, non è che me li ha ridati, non li avevo neanche pagati. Ah, non te li ha pagati? E poi alla fine te li ha pagati? Sì.